Tutto in capa ragazzi, qua è questo, sono i miei ragazzi, sono da solo e sono qui a presentarvi un video importantissimo o meglio che io sono contentissimo di caricare, perché infatti guardate un po' la data di caricamento di questo video 7 giugno del 2014 oh mio dio, perché per esempio, mio dio, quello che non avete potuto facilmente notare dal titolo oggi sto celebrando l'anniversario del primo video in cui ho mostrato la mia face infatti un anno fa, non dico un anno fa esatto, perché alla fine l'avevo caricato l'8 giugno del 2013 il mio primo vlog, però perché dico un anno fa? Perché l'avevo fatto il sabato dopo, quindi il sabato successivo al giorno in cui era finita la scuola, dato che io la finisco di venerdì, perché faccio 6 ore tutti i giorni tra nel venerdì 8, quindi volevo fare la stessa cosa quest'anno quindi oggi eccomi qua a presentarvi il vlog, o meglio il video anniversario del mio primo vlog e sono veramente contento, voi non avete idea perché alla fine è comunque un anno un anno che voi mi vedete, che mi conoscete, ci conosciamo meglio, quindi credo che sia una cosa abbastanza tattica secondariamente volevo dire un'altra cosa, se state, o meglio, se avete notato che l'ambiente è un po' diverso perché appunto essendo un video speciale non potevo farlo dove lo facevo tutti i giorni, quindi nella mia stanza infatti oggi sono nell'ambiente del mio giardino, aspettate un attimo, c'è una persona che sta passando credo sia andata, però non sono un attimo attento perché magari poi mi denunciano per distruggere perché ormai, come voi bene sapete, io urlo a fare i miei video comunque vi sto dicendo che oggi appunto l'ambiente è diverso perché sono nel mio giardino o meglio, non nel mio giardino, nell'ambiente del mio giardino perché sono infatti parte del mio giardino e quindi spero che anche questa idea di cambiare un attimo per questo video speciale vi piace infatti se state vedendo lì è perché io guarderò verso il mio giardino una cosa abbastanza tattica poi un'altra cosa, oggi l'anniversario è doppiamente magico, perché? perché oggi, tecnicamente parlando, dovrei raggiungere i 60.000 iscritti oh mio dio ragazzi, non li ho ancora raggiunti, però in circa mancano 30 iscritti dato che faccio solitamente più di 30 iscritti al giorno, oggi tecnicamente parlando dovremmo raggiungere i 60.000 iscritti ragazzi non ho veramente più parole, siete fantastici ma la cosa bella qual è, è che ho raggiunto i 60.000 iscritti e non è ancora uscito il video di ringraziamento dei 50.000 questo perché allora come ho più volte detto, ho detto appunto l'avrei fatto appunto quando era finita la scuola, quindi finita ieri e poi mi sarebbe occorso un bel po' di tempo per registrarlo e poi in particolare i dispositivi, i dispositivi come ad esempio la GoPro che sto cercando di acquistare su internet, appunto non li ho ancora presi però credo che li prenderò, speriamo oggi quindi è proprio una cosa breve, poi cercheremo ovviamente di registrarlo il prima possibile e cercherò ovviamente di portarvelo prima di un altro raggiungimento prima di un altro traguardo, anche se la cosa non credo sia difficile perché magari il 12 ci dovremmo trovare appunto per registrarlo, trovare chi? io, marcosinci58, sicuramente credo, carmi 9 per registrarvi una sorta di FIFA in real life quindi sarà una cosa veramente epica ultima cosa, dato che è ancora una sorta di video giornalmente questo qua, vi volevo dire l'andiamo a Rio, episodio 4 l'avevo registrato solamente poi c'è stato un piccolo problema, un grandissimo problema che sono riuscito a risolvere solo dopo un bel po' e lo credo che lo caricherò domani è una cosa abbastanza tattica e se potete, vi volevo chiedere di lasciare un mi piace anche questo vlog perché diciamo, dovete voglio vederli anche in altri tipi di video i miei piaci, non solo in video di FIFA perché mi collego un attimo con l'ultimo argomento di questo video io, molto probabilmente in estate caricherò molti vlog molti, molti nel senso perché, dato che andrò in vacanza studio magari vi caricherò dei video mentre sono in vacanza studio oppure quando anche andrò in vacanza con dei miei amici oppure quando diciamo, non ho tempo di fare video perché ecco, in estate non è che abbia così tanto tempo in più perché ho moltissime altre cose da fare vi posso caricare un simpice vlog tanto per tenersi in contatto quindi se potete fatemi sapere se a voi piace o comunque vi piacerebbe comunque guardare questi miei video e quindi non siate iscritti solo per FIFA e se invece siete iscritti solo per FIFA sappiate che durante l'estate ci sarà una sorta di piccolo cambiamento ecco, non valese il cambiamento però comunque i video di FIFA magari diminuiranno e quindi appunto questo qua è il motivo quindi ragazzi detto questo non ho più niente da dirvi vi ringrazio grazie mille per i 60.000 iscritti poi vi ricordo che un anno fa esatto ho caricato il mio primo video mi sono cambiato tanto dopo un anno non lo so ditevelo voi e quindi detto questo io vi saluto e vi dico potenta palazzi nel prossimo video bolla e ragazzi giustamente come un anno fa anche lei vi voleva salutare perché se vi ricordate il vlog di un anno fa o meglio il mio primo vlog l'avevo iniziato facendovi di vedere la magica amicia nello schermo poi con un'altra occasione per dire un'altra cosa se i miei capelli sono abbastanza oceni è perché mi sono svegliato da poco e non ho voluto proprio rifarli al massimo quindi detto questo video vi risaluti vi dico ripetendo palazzi e nel prossimo video bolla ciao